L'Asla di Teramo ha illustrato al Comitato Ristretto dei Sindaci e ai Sindacati la propria idea progettuale per il rilancio dei servizi sanitari in provincia di Teramo. A sintetizzare il piano strategico dell'azienda sanitaria teramana è stato il direttore generale Maurizio Di Giosia col fine di condividere sinergicamente con il territorio le idee del futuro assetto. L'idea, esposta dai vertici aziendali, punta alla costruzione di un ospedale nuovo che guarda i prossimi 40 anni, altamente tecnologico e riservato solo ai casi acuti, da 500 posti letto, ampliabili a 600, oltre a tre ospedali SPOC, ognuno con una propria specializzazione e vocazione, ma anche con una sanità territoriale forte, il cui perno sarà la città della salute che sarebbe realizzata al Mazzini, sempre se questo non sarà scelto come sede del nuovo ospedale. La città della salute a Villa Mosca ospiterebbe tutti i servizi territoriali con ambulatori medici, radiodiagnostica, laboratori analisi, un ospedale di comunità, ma anche un centro riabilitativo e tanto altro ancora. I sindacati presenti al confronto, CGL, CISL, UIL e ANAO, hanno espresso apprezzamento e assenso di massima, offrendo una serie di suggerimenti al progetto. Il presidente della provincia, Diego di Bonaventura, invita tutti a prendere una decisione in breve tempo, senza avere paura di fare delle scelte. Si è perso tempo a litigare sul nulla a discapito del territorio. A tirare le conclusioni dell'incontro, il sindaco di Teramo e presidente del Comitato Ristretto dei Sindaci, Gian Guido d'Alberto, che ricorda come sia necessario far fronte comune sul piano strategico dell'ASR. Con responsabilità è opportuno misurare la forza e l'attendibilità di un percorso nuovo che prospetta il futuro della sanità terramana per i prossimi 50 anni.